Dopo aver toccato il punto più basso a Livorno, per una domenica la VL riesce a rispondere alle contestazioni riprendendosi la vittoria con la sella a 100. Successo netto la vitrifrigo arena con la squadra di Leca che vince 78-60, un match condotto fin dall'inizio e finalmente con una continuità di gioco e concentrazione mantenuta per tutti i 40 minuti. Vittoria in cui spicca anche l'utilizzo al lumicino di Ahmad in campo solo 10 minuti dopo essere stato fin qui il top scorer di squadra. Ahmad che secondo Leca aveva bisogno di tirare il fiato. Una VL convinta fin dall'approccio che indirizza il primo tempo sul 37-29, anche il secondo tempo viene aggredito con un ardore che porta al massimo vantaggio sul più 20 per poi traghettare ad un quarto quarto di controllo del match senza affanni. Vittoria cercata e meritata per due punti che danno respiro alla classifica ma la strada per la redenzione resta ancora lunga e complicata. Dal basket alla pallavolo la megabox Vallefoglia cede alla distanza con la Savino del Bene Scandici che spugna Pesaro 3-1 venendo a capo di un match che le Tigre avevano incanalato sui propri binari vincendo il primo set 25-16. Scandici però stringe ranghi e in tutti i 3 set vinti dalle Toscane regna l'equilibrio sino a quota 20 prima dello strappo finale delle fuoriclasse trascinate da Antropova per un 20-25, 22-25, 20-25. Nel venerdì di calcio di Serie C la Vispesora è invece andata ad una manciata di minuti dalla vittoria nel derby con Lascoli. A negargliela un rigore estremamente discutibile fischiato in favore dei bianconeri al 94esimo che porta Bomber Corazza a siglare l'1-1 finale. Epilogo di un derby in cui Lascoli ha un buon approccio fermato dalla traversa di Varone. La Vispero sale di giri e prima colpisce un palo con Cannavò ai titoli di coda del primo tempo e poi trova il vantaggio con lo stesso scatenato Cannavò nel cuore della ripresa. Un altro palo di Di Paola nega il 2-0 nel finale prima della beffa in un finale reso ancora più surreale dal malore accorso all'attaccante Vissino Molina che ha lasciato il campo in ambulanza per poi passare una notte in osservazione all'ospedale San Salvatore. Per l'attaccante argentino solo un grande spavento. Nel calcio a 5 arriva la quinta sconfitta in segare per l'Ital Service Pesaro che al pala Megabox cede 2-1 alla fel di Eboli. Ital Service avanti dopo due minuti e mezzo con Barichello ma Campani che pareggiano subito per poi pervenire al gol partita nel secondo tempo grazie al portiere Dalcin che decide di avanzare e scaricare un bolide che si insacca consegnando la vittoria ad Eboli. Grande vittoria invece per la Fiorini, Pesaro, Rugby che a muraglia piega la capolista Caimani-Viadana 22-10 al termine della miglior prestazione dell'anno. Primo tempo molto combattuto con Pesaro che subisce una meta ma che risponde con tre calci di punizione bersaglio di Giubert che mandano i Kiwi al riposo sotto 10-9. La squadra di Martino però poi sale di giri soprattutto in difesa non concedendo più nulla agli avversari. Il risultato che ne consegue è il vantaggio con punizione di Azzolini poi gonfiato da una meta di Antonelli trasformata prima di un altro calcio di Azzolini che chiude la contesa sul 22-10.